Anche quest'anno le scuole bassanesi celebrano le giornate dello sport inserite dalla Regione Veneto nel calendario scolastico. Da domani a sabato tutte le scuole di ogni ordine e grado organizzeranno attività pratiche ed incontri in tutti i plessi. Obiettivo delle giornate dello sport è avvicinare i ragazzi all'attività sportiva dando loro l'opportunità di conoscere le diverse discipline presenti nel territorio in cui vivono nella convinzione che lo sport costituisca il naturale completamento dell'attività formativa all'interno delle scuole. Per l'occasione 25 società sportive bassanesi hanno messo a disposizione atleti e dirigenti che incontreranno gli studenti nelle singole scuole nell'ambito del progetto Testimonia la Scuola. Tra i protagonisti che incontreranno i ragazzi anche due atleti paralimpici Carlo Calcagni e Oscar De Pellegrini.